A Catania senza Zeman in panchina, lieve e malore per il Boemo che tuttavia sta molto meglio in bocca al lupo di cuore da parte nostra e di tutti. Sentimento unanime per il maestro, soprattutto per la persona. La salute prima di ogni cosa. Al suo posto il vice Giovanni Bucaro, fedelissimo del Boemo, 53 anni appena compiuti, non un neofita della panchina, anzi. Sì, esperienza in D alla guida del Pomigliano in seconda divisione del Manfredonia, poi in C tecnico di Avellino, Savoia, Arezzo, Monopoli, di nuovo ad Avellino in D nel 2018. Vittoria del campionato con 11 successi consecutivi e scudetto di categoria. Ciò malgrado a fine stagione non viene confermato. Tutt'altro che baciate dalla buona sorte le ultime esperienze, la guida della Sicula Leonzio e del Bisceglie. Si giocano i quarti di finale in gara secca in caso di parità al novantesimo, tempi supplementari e eventuali calci di rigore. Biancazzuri privi di Brosco e Franchini. Il probabile 11, forse un solo cambio rispetto alla squadra che ha travolto l'Olbia, ovvero di Pasquale per Mesic. Tanti gli indisponibili nel Catania. L'ex Rizzo, Ladinetti, Buà, Di Carmine, Sarao e lo squalificato De Luca. Cristiano Lucarelli, subentrato da circa un mese a Tabbiani, si affiderà al 4-2-3-1. Tra i pali il Lettone Betters, in difesa Rapisarda, ex L'Aquila, Curado, Lorenzini e Castellini. In mezzo al campo il tandem Quaini-Zammarini. Davanti Chiricò, l'ex Bocic e Sterdi, Rocca tra le linee, alle spalle del lituano Dubicas. In 14 sfide in terra siciliana, appena un successo del Pescara, storia di quasi 43 anni fa. 14 giugno 1981, Serie B, Biancazzuri di Aldo Agroppi, prevalgono 1-0 gol di Massimo Silva. Campo tradizionalmente ostico, sei sconfitte di fila negli ultimi sette incontri. Sempre in B, 29 marzo 1987, nelle immagini, il Catania di Rambone si impone 1-0, match winner Orazio Sorbello. 24 aprile 2004, gli Etnei vincono per 2-0, marcatori Mascara e Del Vecchio. Un anno dopo, con Simonelli in panchina, Biancazzuri avanti, gol di Daniele Croce. Ma il Catania la ribalta grazie alle reti di Silvestri e al novantesimo del croato Vugrinets. L'ultima volta al Massimino di Catania, il 28 settembre 2014, successo per 2-1 dell'11 di Sannino. Rossina su rigore, momentaneo pareggio firmato da Melchiorri, gol vittoria dell'ex Emanuele Calaiò. Infine, clamorosa l'ingiustizia perpetrata ai danni del Pescara di Ivo Iaconi, il 26 maggio 2002. Ritorno della semifinale play-off per la promozione in B, dopo l'1-0 della sfida di andata, prodezza di suppa. Fuori gioco a dir poco vistoso dell'ex Massimo Cicconi, match winner della contesa, arbitro Bergonzi di Genova. Poi il Catania salirà in B, battendo in finale il taranto di Gianni Simonelli, che a sua volta aveva eliminato il lanciano di Fabrizio Castori.